Ora Mary, ti chiedo semplicemente di tenere questa moneta all'interno della mano. Chiudi bene la moneta, chiudi bene la mano, benissimo, e chiudi gli occhi. E mentre chiudi gli occhi, puoi andare tranquillamente in profondità, completamente, scendendo come scende il mio dito sul tuo viso, dentro di te, fino a un punto di profondità e di rilassamento molto forte, bravissima, tanto che anche il tuo viso comincia a sentirsi pesante, la testa pesante, il collo morbido e rilassato, e a poco a poco noterai che quella testa ondeggia, quelle palpebre ondeggiano, e puoi andare in profondità, bravissimo Mary, bravissimo, puoi proprio appoggiare anche tutta la tua testa tranquillamente in profondità, molto brava. Adesso puoi immaginare semplicemente che attraverso il tuo corpo si generi una forma di calore molto molto piacevole, oltre che essere piacevole, questa forma di calore è in grado di concentrarsi, Mary, su questa tua mano. Si concentra così tanto questa forma di calore all'interno della tua mano, che tra poco, quando io ti farò uscire da questo stato ipnotico, il calore si accumulerà così tanto, che a pochi secondi da quando uscirai dall'ipnosi, quella moneta nella mano comincerà a scottare. Il calore si sta accumulando, percorre tutto il tuo corpo e arriva alla tua mano e fa da piccola forma per quella moneta. Tra pochi istanti, conterò da uno a tre, tu potrai uscire da questa ipnosi, stare molto bene, essere molto rilassata, ma intanto quella moneta continuerà a riscaldarsi e qualche secondo dopo che sarai uscita dall'ipnosi, quella moneta sarà rovente in quella mano e sarà impossibile tenerla. Tra poco conterò da uno a tre, altre sarai fuori da questa ipnosi, avrai gli occhi aperti, ma quel processo di riscaldamento in quella mano continuerà per alcuni secondi, fino a quando quella moneta sarà rovente. Puoi dimenticare tutto quello che ti ho detto fin qui e per questo la tua mente inconscia lo farà funzionare ancora più in profondità. Conterò da uno a tre. Uno, due, tre. Mary, puoi aprire gli occhi. Com'è? Che sensazione hai? Sei rilassata? Non sei rilassata? Ok. Tutto bene? Le spalle, le braccia? Ok. Che cosa noti? Mi dà fastidio. Come mai ti dà fastidio? Perché è un po' caldo. Ah, e come mai è caldo? Non lo so.